Questa sera si rinnova l'appuntamento con il teatro contemporaneo di Legami, rassegna organizzata dal Teatro delle Forche. Sul palco del Teatro Comunale resta il collettivo Servomuto Teatro, con uno dei progetti vincitori del bando Futuro Prossimo Venturo Residenze per Artisti nei Territori 2024 a cura del Teatro delle Forche. Questa è un'iniziativa cofinanziata dalla Regione Puglia in accordo con il Ministero della Cultura attraverso l'intesa Stato-Regioni. Parliamo di deframmentazione insieme al regista Michele Segreto, che abbiamo qui in videocollegamento. Buongiorno Michele. Buongiorno, buongiorno. Allora, questa sera andrete in scena di dramma assoluto con incursione all'atere di Io Epico, ovvero una storia di impossibilità. Ah, sì, esatto. È un titolo molto complesso, però è una trama in realtà relativamente semplice, nel senso che noi raccontiamo, Fabio Pisano, che è il drammaturgo, ha voluto raccontare una storia di impossibilità, cioè la realizzazione di una coppia che vuole avere un figlio, non è in grado, e in questo mondo però che è molto simbolico, molto assurdo, decidono di chiedere un aiuto a un amico, a un amico della coppia, che abbia proprio un rapporto sessuale per concepire un figlio. In questo mondo in cui evidentemente non esiste la fecondazione assistita, perché già per partire i personaggi si chiamano uno e zero, questo triangolo amoroso in realtà diventa un dramma, un dramma assoluto, che viene accentuato dalla presenza scenica poi di un didascalista che commenta e riferisce tutto quello che avviene e che fa sì che queste funzioni, perché non sono neanche personaggi, ma sono funzioni, ci facciano però da specchio per riconoscere noi stessi all'interno di questa storia assoluta e di impossibilità. Particolare l'utilizzo delle didascalie, lo vediamo adesso in onda il video, ed è molto particolare come è stata effettuata questa scelta. Ma intanto è una cosa che viene naturalmente da livello testuale, il testo già prevede questo, noi abbiamo pensato di lavorare con dei cartelli proprio, di proiettare, e questo restituisce poi alla forma scenica, diciamo alla regia, molto della natura del testo, che è una cosa che ci interessava molto, perché dal testo siamo partiti, perché il testo è la cosa che ci ha colpito, che ci ha fatto dire, lo mettiamo in scena. Abbiamo un personaggio che è in scena e che proprio mette semplicemente i cartelli per tutta la durata dello spettacolo e che però poi finisce per interagire inevitabilmente con gli attori, perché viene coinvolta da quello che avviene sul palco. E veramente io mi sono incuriosita, penso anche i nostri radioscoltatori e telespettatori quanto saranno curiosi, sarà possibile ancora venire questa sera? C'è posto per prenotare ancora? Penso proprio di sì, 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 sì. Di sì, perché allora lo diciamo che è una produzione servomuto teatro in collaborazione con Libera e Mago, la drammaturgia, così come detto, di Fabio Pisano, la regia è la tua, Michele, Michele Segreto, e poi ci sarà Francesca Borriero, Michele Magni, Roberto Marinelli, e parliamo anche dell'assistente alla regia, Irene Latronico, Costumi, Alessandra Faienza, Live Design, Martino, Minzoni, una bella squadra come sempre per preparare, perché lo diciamo, io lo chiedo a te, regista, per preparare uno spettacolo c'è bisogno di quante persone e di quante persone anche dietro le quinte? Ah, tante, tantissime. Serve una squadra di collaboratori, di professionisti che si occupano delle cose più minute, alle cose più importanti. Nel caso specifico noi abbiamo scelto di lavorare come servomuto teatro insieme a Libera e Mago, che poi è la compagnia di Fabio, proprio per provare a vedere se, in questa cosa anche un po' pazza, di riunire una compagnia di Milano e una di Napoli, se vedere in questa collaborazione se nasceva qualcosa di fruttuoso e secondo me è nato, insomma. Quindi abbiamo mescolato un po' dei nostri collaboratori, un po' dei nostri professionisti, un po' dei loro ed è venuto fuori questa squadra mista. Posso chiederti qualche aneddoto brevissimo, se c'è stato una cosa divertente durante la preparazione, il lavoro, o anche qualche messa in scena? Ma allora, la nostra modalità di lavoro è sempre di cercare comunque di divertirci, nel senso che se gli attori almeno un po', poi sono sempre nel panico, perché questo è un testo veramente difficile, anche semplicemente per la memoria, però se gli attori almeno un po' non si divertono, allora tanto valeva fare un altro lavoro. Per cui ci sono stati tanti momenti di divertimento, di prova, anche di crisi in prova, che però serve per capire quando stai facendo qualcosa che non ti corrisponde. Però poi in generale davvero riunire degli attori di Brescia e di Bergamo con degli attori di Napoli è stato interessante, nel senso che abbiamo anche scoperto delle cose reciproche noi stiamo cercando a imparare a parlare, a dire qualche parola in napoletano. Eh, non scambiarsi i dialetti, eh, tra Bergamo e Napoli voglio vedere, insomma, è una bella sfida, potrebbe nascere un nuovo spettacolo da qui. Un spettacolo sulle prove. Sì, esatto, va bene. Grazie, grazie a Michele Segreto e ci vediamo questa sera al Teatro Resta di Massafra.